Vi auguro una buonanotte. Sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Le emozioni che si muovono nel tuo cuore rappresentano il richiamo dell'amore. Questa carta ti suggerisce di seguire il percorso indicato da questi sentimenti. Forse hai conosciuto qualcuno che ti ha toccato il cuore e ti domandi se è il caso di inseguirlo. Beh questa carta ti dice che la risposta è sì o facendoli capire i tuoi sentimenti. Se di recente desideri più amore nella tua vita questa carta ti sta invitando a fare qualcosa perché ciò accada. Puoi corteggiarti per esempio regalandoti un bel massaggio o un pedicure, comprandoti dei regali o guardando un film d'amore. Puoi anche cercare e attrarre attivamente il romanticismo. Per prima cosa afferma che si trova già dentro di te. Un partner porta in superficie questi sentimenti tuttavia potenzialmente sono già dentro di te. Quanto più affermi sono romanticamente amato tanto più attrai questa condizione attraverso una relazione. In alcuni casi ricevi questa carta come segnale che ti avvisa che sei pronto ad una nuova relazione. Quindi la carta ti guida all'azione. Ti invita a essere consapevole che alcune persone che incontri potrebbero essere tuoi potenziali partner e ti consiglia di frequentare luoghi dove potresti conoscerli per esempio luoghi o eventi legati ai tuoi hobby o interessi. Questo è il messaggio della buonanotte degli angeli dell'amore cioè del cuore scusate.